Video percorso da Cupra Montana alla stazione FS di Iesi, 8 agosto 2014. Grazie a tutti. 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 Fa 27 gradi, le cicale però non si sentono. Grazie a tutti. Adesso fa già 28 gradi. 70 km al luogo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si sentono. Si sentono già le cicale, contrariamente a quello che ho detto prima. Grazie a tutti. 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 Stiamo entrando a Ponte Pio. Colazione del comune di Monte Roberto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.